I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo di denaro e disponibilità finanziarie su utilità fino alla concorrenza di oltre un milione di euro unitamente a beni mobili ed immobili nei confronti di una società beneventana operante nel settore elettrico. Le indagini svolte attraverso l'esecuzione di analisi ed acquisizione documentali sono scaturite da un'informativa di reato inviata dall'Agenzia delle Entrate Divisione Contribuenti Settore Contrasto Illeciti Sezione Territoriale Sud di Napoli a carico di un soggetto sannita. Gli ulteriori accertamenti esperiti dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Benevento avrebbero permesso di corroborare ulteriormente la piattaforma probatoria e la conseguente contestazione del reato in quanto la società avrebbe utilizzato in compensazione negli anni 2019, 2020 e 2021 crediti inesistenti generati da asserite spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo.